Tema, se si parla di ambiente, questo momento storico nella nostra provincia non può non parlarsi della discarica di riceci, come va a Roma, qual è la situazione del governo, qual è il parere di Europa Verde in merito? Il gruppo parlamentare di cui io sono presidente è Alleanza Verdi e Sinistra e fin da subito il gruppo è stato coinvolto in questo progetto di discarica e abbiamo presentato due interrogazioni a questo proposito perché intanto si tratta di rovinare e di violentare uno dei luoghi più significativi dal punto di vista ambientale, paesaggistico, storico della regione stessa e poi perché il progetto andrebbe ad alterare e rovinare un'economia legata soprattutto all'agricoltura, alle culture biologiche che si è affermata e che costituisce una potenzialità anche dal punto di vista economico e sociale importantissima e poi insomma tra Perisano e Urbino in un luogo assolutamente a ridosso di un luogo, di un sito vincolato e di un sito prezioso e poi c'è una storia anche abbastanza secondo me opaca rispetto a quelle che sono state le scelte effettuate per arrivare a quel progetto il coinvolgimento di società di San Marino, il fatto che ci sia un sovradimensionamento rispetto al fabbisogno reale ma questo è un po' legato a tanti progetti di gestione dei rifiuti che diventano occasione di business e non di soluzione del problema reale. Come si può risolvere dal punto di vista del governo un problema del genere? Il governo può intervenire o aspetta alla regione o alla provincia o al comune? Innanzitutto il governo può intervenire ed è intervenuto perché il ministro della cultura attraverso il sottosegretario Sgarbi ha eccepito e si è mosso da questo punto di vista perché è chiaro che la salvaguardia del territorio è una competenza che vede una forma di sussidialità prevista dalla stessa Costituzione. Ricordiamo che la tutela dell'ambiente è entrata in Costituzione quindi c'è una responsabilità diretta del governo. Concretamente i comuni, la provincia, la regione sono gli enti che devono garantire la gestione dei rifiuti che al presente se si pensa a una discarica si pensa ad una dimensione novecentesca non certo a seguire quelle che sono anche le direttive europee che ormai non le sto a elencare tutte sono diciamo del danno, delle indicazioni e dei vincoli rappresentano logicamente delle norme molto precise a cui ci si deve attenere e che non riguarda solo la parte finale della gestione dei rifiuti ma anche quella che previene la formazione dei rifiuti stessi. Ricordiamoci risparmio, riciclo, riuso e quindi è tutto il ciclo produttivo e anche del consumo perfino lo stile della propria vita che ha a che fare con una serie politica rispetto a quello che dovrebbe essere appunto zero rifiuti.